Le settimane sociali rappresentano una grande occasione, anzitutto per il mondo cattolico, un'occasione di confronto tra posizioni diversi su temi cruciali, di attualità. La prossima settimana sociale, che si attuerà a metà del prossimo mese di ottobre, affronterà temi come l'imprenditoria, il lavoro, la scuola, la famiglia, le riforme istituzionali e su ognuno di esse si cercherà anche da posizioni differenti di dire qual è il futuro della nostra Italia, su quali vie possiamo camminare per giungere verso il bene comune, verso un paese rinnovato. Il sottotitolo di questa settimana sociale è un'agenda di speranza per il futuro dell'Italia. Si parla di bene comune, secondo lei la politica sta ancora lavorando per il bene comune? Ma purtroppo l'impressione è che molte volte si cammini verso beni parziali, verso quel bene che ciascuna posizione intravede, oppure verso il bene di alcuni soltanto. Lavorare per il bene comune significa lavorare per il bene di tutti, proprio di tutti in una società, di tutti i suoi soggetti, di tutte le sue persone, di tutte le sue famiglie.